Sono molto impressionata dal lavoro che sta facendo non tanto il programma ma anche questi ragazzi qui a Rondine anche perché la tanta ignoranza che è nel mondo oggi contribuisce a costruire tutte queste cavolate che si sentono oggi nel mondo. È un posto che permette ai ragazzi di riunirsi e cercare di lavorare sul significato di pace oggi. È molto importante non soltanto per l'Italia ma anche per il mondo in generale. La storia di Leima è la storia proprio augurabile degli studenti di Rondine, cioè che quando tornano nei loro paesi dopo i due anni qui a Rondine hanno da inventarsi dei modi per trovare le vie della pace. Leima ha trovato una via meravigliosa, ha unito tutte le sue donne, ha creato un movimento trasversale non violento e ha posto fine a un bagno di sangue che affliggeva il proprio popolo. Quindi è un modello meraviglioso seguito da tanti giovani nel mondo e certamente i giovani di Rondine che già stanno facendo cose. Accanto a lei per esempio in Sierra Leone in questi giorni, in queste ore stanno preparando le elezioni presidenziali di villaggio in villaggio. Quindi Leima sta a casa a Rondine e ci fa molto piacere condividere con il premio promosso da un pezzo della cultura retina che sempre di più dimostra come bisogna proporre ai giovani grandi valori e grandi personaggi. Grazie.